Il Memoriale Italiano di Auschwitz è di nuovo visitabile e ora è in Toscana. A salutarne l'inaugurazione al centro X3 di Firenze sono arrivati in tanti cittadini e rappresentanti delle istituzioni. Regione Toscana, Comune di Firenze, Ministero dei Beni Culturali e ANE dell'Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi Nazisti hanno lavorato fianco a fianco dal 2014 dopo la decisione del Museo Polacco di Auschwitz di chiudere il monumento inaugurato nel 1980 nel blocco 1 del campo e ideato l'anno prima tra gli altri da Primo Levi. Per il restauro e l'allestimento del Memoriale a Firenze interamente ripristinato in soli quattro mesi la Regione Toscana ha stanziato 2 milioni e mezzo di euro e ora a tutti gli alunni delle quinte classi e delle superiori sarà offerta la possibilità di visitarlo. Io sono stato a dire che i giovani ma anche i vecchi perché chi è che dimentica sono i vecchi e tra l'altro poi le vittime avrebbero il diritto di non ricordare, gli altri hanno l'obbligo di ricordare quindi poi si incontrano ovviamente. Al piano terreno dell'Ex3 completamente riallestito con una sala interna alta 11 metri adatta a ospitare il Memoriale l'ANED ha inaugurato poi la mostra dal titolo Un filo in interrotto, la memoria della deportazione e il Memoriale di Auschwitz subito visitata dai tanti che hanno preso parte alla giornata perché la memoria è l'unico monito possibile contro una storia che non deve tornare più attuale.